Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha convocato per martedì prossimo un incontro tecnico sulle scuole al quale sono stati invitati anche i dirigenti scolastici. Diamo seguito a quello che avevamo detto, diciamo l'indomani della mia visita a Roma con Errani, Curcio e poi col ministro Fedeli avevamo deciso che era opportuno determinarsi attraverso un tavolo tecnico al quale ovviamente parteciperanno i tecnici che hanno fatto le verifiche sismiche, parteciperanno dirigenti scolastici, parteciperà l'ufficio scolastico provinciale con il dottor Nardocci, i tecnici del comune, il sindaco, gli assessori competenti e l'ufficio speciale per la ricostruzione. In questo tavolo si discuteranno un po' ancora una volta gli indici, discuteremo anche degli ulteriori approfondimenti e verifiche che i tecnici hanno fatto sulle scuole diciamo con un indice di vulnerabilità basso per cercare di capire se magari con degli approfondimenti qualcosa è cambiato. E' chiaro che l'obiettivo è sempre la sicurezza dei nostri ragazzi in attesa della risposta da parte del governo e di Errani. Non sono ancora arrivate le risposte che lei aspettava? Ma diciamo che ho avuto una telefonata con Errani che mi ha detto che stavano lavorando sulla mia relazione. E' chiaro che adesso c'è bisogno di qualche giorno considerando insomma che è stato ferragosto per tutti e questa settimana probabilmente scivolerà. Io spero che nei prossimi giorni di ricevere una telefonata, altrimenti sarò io a chiamare. Non è questo il problema Errani che devo dire risponde sempre al telefono, è una persona molto disponibile. L'arrivo dei MUSP resta certo? Noi questo è quello che abbiamo chiesto, qualsiasi ipotesi alternativa può essere dall'amministrazione valutata. E' chiaro che noi abbiamo bisogno di aule, i MUSP sono un'opportunità e anche questa polemica un po' sul fatto che il Comune vorrebbe desertificare il centro storico fatta dal presidente del Lance, insomma un po' mi ha lasciato così sorpreso perché non c'è questa volontà. Stiamo lavorando anche su ulteriori fonti di finanziamento, anche attraverso i PON. Il problema è la tempistica? Il problema è la tempistica, ecco perché la riunione del 22, ecco perché il 22 condivideremo con i dirigenti le scelte da fare. Gli indici ovviamente non saranno tutti coinvolti in questo discorso, le commissioni consigliari, anche i comitati delle mamme perché assolutamente c'è bisogno di un coinvolgimento di tutti e di una presa di coscienza di tutti della situazione che ripeto, l'ho detto più volte, non è una situazione che riguarda il nostro territorio, è una situazione che riguarda l'intero paese sugli indici di vulnerabilità come mi ha anche detto Curcio quando ancora era capo della Nazione Civile ed Errani. Quindi ci vuole questa consapevolezza, però non bisogna star fermi, bisogna lavorare come stiamo facendo.